12 febbraio 1996, muore a Roma a 62 anni il giornalista Andrea Barbato. Per tutti i telespettatori, che lo ricordano come quello della cartolina, è il cronista capace di dare voce in modo semplice agli interrogativi degli italiani. Aldo Grasso gli riconosce il merito di esprimere in toni pacati, ma fermi, la propria indignazione e il proprio dissenso dalle versioni ufficiali delle vicende politiche italiane. E' una notizia che tutti aspettano insieme a lei. L'ospite di riguardo.